guardate questa scena ragazzi guardate cosa succede ora ce lo spiegherà il nostro mentore walt il koala guardate cosa succede dopo aver sconfitto jaya baia possiamo ritornare alla barca dove ci aspetta gadget il nostro amico pellicano no niente non ci ha detto nulla walt il mentone mi sono sbagliato è tutto vi saluto vi ho fatto vedere un piccolo video un breve video iscrivetevi al canale mettete un mi piace vi aspetto nelle montagne ghiacciate